Cremonese che non porta a casa il risultato pieno, non porta a casa i tre punti pur essendo passato in vantaggio con gol di Occhereche su uno splendido assist ovviamente involontario di De Paoli che prende cinque soprattutto direi quasi esclusivamente per quella giocata, una giocata davvero sciagurata che ha permesso all'attaccante della Cremonese di segnare il gol del vantaggio. De Paoli dunque protagonista in negativo per la partita dell'Ellas.